buongiorno signori oggi direzione apple store via del corso non so quanto sarà possibile registrare la dentro probabilmente nulla ma ci proviamo quindi dai partito secondo google maps sarei dovuto arrivare a roma in 40 minuti circa ma poi che fai non li becchi tre incidenti su strada perfetto l'ansia avevo una prenotazione e se faccio tardi arrivo a roma mi dimentico di vloggare corro per prendere la metro boom finalmente eccoci al nuovo apple store in via del corso a roma appena è entrato mi accoglie una ragazza non ricordo come si chiama inizia il mio tour guidato questo è il primo store realizzato con marmo di carrara il marmo che vedete sul pavimento invece è un'unica lastra tagliata al momento della giusta grandezza per realizzare le stanze evidentemente non gli piacevano le giunture a terra lo store è pieno di area di b da far vivere al cliente l'esperienza apple ogni stanza è ben organizzata c'è la stanza dei prodotti quella più grande dove potete vedere i mac i nuovi i mac secondo me sono dei giocattoli non mi piacciono boh vabbè ipad e iphone c'è la stanza delle cuffie e quella degli accessori tutto lo stabile aveva dei controsoffit delle pareti di cartongesso che coprivano gli affreschi e i graffiti addirittura prima era una specie di bar mentre la ragazza me li illustrava ero impegnato a fare foto ma non ricordo cosa stanno a significare sono comunque molto belli per andare al piano di sopra ci sono delle scale assurde ed un bellissimo lucernario passando di qui si può arrivare alla stanza in cui un giorno verranno effettuati di nuovo gli apple labs si può accedere ad uno spazio in cui genius risolveranno i vostri problemi e solo per l'inaugurazione era possibile visitare la stanza delle riunioni in cui i pezzi grossi di apple andranno lì a consultarsi sulle loro robe dentro c'è anche un pezzo del corrimano dello steve jobs theater secondo me non è quello originale dopo la visita allo store pausa pranzo meritata via in metro si monta in macchina e si torna a casa sperando di non trovare il disagio della mattina e invece no coda sul raccordo ovviamente finalmente però respiro aria di paese dopo otto ore in giro arrivo finalmente a casa finalmente di ritorno a casa dopo otto lunghe ore è stata veramente una giornata molto stancante ma veramente vi straconsiglio di andare a via del corso a roma a visitare questo nuovo apple store perché è veramente veramente pazzesco non so se è più bello di quello di piazza liberty perché purtroppo non sono riuscito ad entrare a piazza liberty in quanto quando sono stato a milano era tutto chiuso per via del covid però vi assicuro che questo a via del corso merita veramente veramente tantissimo e oggi una ragazza che lavora lì mi ha detto che è già aperto a tutti dovete soltanto per notare la vostra visita sul sito potete anche dire che state andando a vedere un prodotto non siete vincolati all'acquisto quindi non male io oggi sono veramente veramente distrutto ecco sono le 16 del pomeriggio e da stamattina alle 8 che vado in giro e direi che è arrivato il momento di andare a casa a fare una bella doccia e mettermi a montare questo video sono distrutto ciao ragazzi un saluto da Luca Crocco noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale youtube ciao